Nello Miano da poche ore sei il nuovo allenatore della Valdinisi, subentri a Parisi, certamente la squadra non viaggia spedita, ultimamente ha fatto delle prestazioni e dei risultati che non hanno soddisfatto la dirigenza quindi hanno preferito cambiare allenatore e hanno scelto te. Sì, ho iniziato l'avventura con la Valdinisi, nella situazione della classifica non è che è molto preoccupante perché la squadra è a tre punti di margine in questo momento sulla zona play-out, sicuramente ci sarà molto da lavorare per poter migliorare queste problematiche che sono emerse sulle prestazioni delle ultime partite della squadra. Già ieri sera la prima seduta di allenamento, come hai visto i ragazzi, come ti sei presentato, che obiettivi hai sia per la società che sia per questa nuova avventura dopo aver allenato l'ultima esperienza a Pistunini in eccellenza tre anni fa? Sì, l'obiettivo è quello di cercare di mantenere la posizione in classifica in modo da essere salvi con qualche giornata di anticipo si è cominciato di nuovo, per i ragazzi si tratterà di un lavoro diverso perché ogni tecnico ha le sue metodologie il calcio è sempre uguale, però ognuno lo interpretiamo a modo nostro. Sì, io ripendo con i grandi dopo tre anni, ma in questi anni sono stato impegnato con l'Under 15, sempre della stessa società con la quale l'anno scorso abbiamo vinto il torneo Under 15 provinciale. Ci rimettiamo di nuovo in gioco e speriamo di poter essere utili alla causa. Che metodo utilizzerai in base alle squadre oppure hai già un metodo tutto tuo, un modulo di gioco che vuoi a poco a poco farlo inserire nei tuoi ragazzi? No, 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 io cercherò di adattare il modulo alle caratteristiche dei ragazzi. Le metodologie di lavoro penso che saranno diverse perché ho sempre lavorato in determinato modo e continuerò a farlo perché dovunque sono stato i risultati sono venuti sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista organizzativo, tattico. Cercheremo di calare sull'organico a disposizione, su cui non si può fare l'intervento perché ormai il mercato è chiuso e penso che svincolato ci sarà poca cosa. Il modulo migliore per poter farli rendere, non c'è un modulo già preconfezionato. Diciamo che la Valdinisia importa Simone che è bravo, nell'ultima partita contro l'Istantacata ha evitato la sconfitta e poi il reparto di attaccanti non è male. Ivan Bricuglio è principato. Sì, c'è pure Brigandì. Io mi sono appena affacciato alla realtà della prima squadra. Quello che ho potuto notare è che ci sono delle problematiche per gli allenamenti perché c'è tutta gente che lavora e che certe volte non riesce a liberarsi neanche per l'orario tardo di allenamento. E questa è una cosa su cui dovrò intervenire, trovare degli orari che possono essere utili a tutti. In una precedente intervista Coleti ci ha detto che il campo di Nizza svantaggia il gioco della Valdinisia. In questi primi due allenamenti, uno ieri e uno che lo farai nel pomeriggio di oggi, come vedi questa situazione e se è vero che l'ampiezza del rettangolo di gioco penalizza il gioco della Valdinisia? Sì, questo è un argomento che la società mi ha fatto presente e che probabilmente dalle prossime partite in casa si giocheranno a furci. Io quello che posso dire è che i campi stretti, perché il campo di Nizza è stretto, la società è riuscita a fare questo campionato, a ottenere dalla Lega l'addero per poter fare le partite in casa, giustamente danno un vantaggio alla squadra magari di fuori che viene magari più chiusa mentre per chi attacca, per chi deve fare la partita, giustamente le dimensioni del campo più piccolo possono essere dannose. Tranne che uno non si trova una squadra di marinse all'arrembaggio, allora il campo stretto, lì chiudi là, ti potrebbe essere anche utile, però dalle caratteristiche della squadra della Valdinisia queste le caratteristiche non ce l'ha. Cosa possiamo dire ai tifosi, dato che la Valdinisia è seguita sia in casa che sia in trasferto? I tifosi bisogna solamente dire che continuino a dare il loro supporto e che tutti insieme dobbiamo cercare di portare a traguardo del minimo del campionato quello di mantenere la categoria. Il prossimo anno poi la società sull'esperienza di quest'anno cercherà di programmare in base a dove magari ha visto che ci sono stati dei problemi, perché il campionato di promozione, che se ne dica, anche se è solamente un gradino sopra la prima categoria, la prima categoria l'anno scorso dominata dalla Valdinisia, comporta delle difficoltà. Grazie a tutti.